Un sistema integrato di trasporti gomma-ferro che decongestioni il traffico nel centro abitato e favorisca la rapida emissione delle merci lungo la direttrice adriatica. È ciò che prevede il progetto delle ferrovie del Gargano per il territorio di Apricena, grazie alla realizzazione della circonvalazione della piastra intermodale al servizio innanzitutto del grande bacino marmifero, con le numerose cave da cui si estrae la pregiata pietra esportata in tutto il mondo. Un progetto da almeno 10 milioni di euro da reperire attraverso i fondi europei. Abbiamo un sistema che è costituito da una viabilità che scarica la viabilità interna, la traversa interna dell'SP37 e dell'SS89 all'interno di Apricena, togliendo oltre 100 mezzi pesanti che trasportano materiale lapidio verso la zona industriale o verso le destinazioni finali e le sposta direttamente verso la statale 89 a sud dell'abitato di Apricena e si integra con un progetto di piastra intermodale che non è all'interno della stazione ferroviaria di Apricena ma è immediatamente a sud. I treni delle ferrovie del Gargano sarebbero il fulcro di questo sistema di trasporto intermodale. Il trasporto ferroviario è quello che ha il più basso costo e quindi consente alle merci e prodotte di poter essere vani su tutti i mercanti. Enormi in prospettiva i benefici per l'economia del Gargano e dell'alto tavoliere. Noi abbiamo la possibilità di mettere in un sistema molto ampio 250.000 persone che abitano in questo territorio e far sì che possano nascere nuove attività imprenditoriali in questa zona.